che apre il G20. Le chiedo intanto che idea si è fatto lei, quanto è importante questo appuntamento e le chiedo anche se è preoccupato per quello che potrebbe accadere perché in questi giorni ne abbiamo raccontato piazze anche piuttosto calde, no? Guardi, io non mi aspetto mai granché dagli appuntamenti internazionali perché le cose avvengono prima e a parte. Mi sembra che la componente spettacolare e celebrativa sia molto forte. Probabilmente si prenderanno delle decisioni importanti ma credo che siano soprattutto i contatti bilaterali precedenti che possono avere spianato la strada a decisioni importanti. Diciamo che non è stato organizzato all'insegna della sobrietà ecco, forse magari se si vedevano a Santa Margherita Ligure o dietro una ventina di persone era tutto più semplice ma comunque la politica è anche spettacolo e noi assistiamo allo spettacolo. E però professore, nei giorni scorsi in queste ultime settimane ma in verità già da qualche tempo io che sto qua tutti i giorni continuo a raccontare mi verrebbe da dire di un disagio che poi si traduce in proteste, in manifestazioni alcune peraltro vengono strumentalizzate da chi semplicemente vuole menare le mani come si dice in gergo però certamente la mia sensazione è che ci sia un disagio forte tra l'altro chiedo alla regia se abbiamo un po' di immagini tanto le proteste una per l'altra ci danno il senso di questo bisogno di farsi ascoltare le chiedo se è solo una mia sensazione o se tra i palazzi e quel bisogno di farsi ascoltare c'è uno spazio che sta diventando troppo grande? grazie della domanda che è molto interessante la mia prima risposta è che non saprei bene se c'è un allargamento dello spazio tra i palazzi e la gente tendo a pensare che magari c'è anche questo però alla base c'è un allargamento degli spazi fra la gente perché una delle conseguenze di questa crisi prima economica e poi sanitaria è un cambiamento radicale nella condizione sociale ed economica delle persone cioè ci sono persone singoli e gruppi che si sono rafforzati anche a causa della pandemia e pensiamo per esempio a una componente della ristorazione da tutte le attività che sono state aperte nuove ad esempio e poi ci sono altre componenti che si sono indebolite di nuovo anche qui soprattutto nel caso del lavoro autonomo ma ci sono anche allargate le differenze fra dipendenti pubblici e dipendenti privati e poi c'è l'enorme frattura tra quelli che hanno paura del virus del vaccino e quelli che invece si sono vaccinati e quelli che non ce l'hanno però non so se è un distacco come lei suggeriva tra il palazzo e la gente mi sembra che la gente che è divisa al proprio interno sa perché glielo chiedevo perché mettevo insieme l'elemento delle manifestazioni delle proteste di piazza ad esempio di quelle contro il Green Pass comunque la si pensi rispetto al Green Pass però mettevo insieme quello che secondo me è comunque una manifestazione di disagio con l'affluenza alle urne cioè se va a votare un italiano su due meno di un italiano su due quanto è stata l'ultima affluenza poi per carità le amministrative è solo un piccolo numero rispetto all'interno numero del paese però insomma secondo me qualcosina ci racconta perché poi devi scegliere il tuo sindaco che è il politico che in qualche modo ti è più vicino se non vai a votare qualcosa significa vediamo un cartello però per...